Oggi parliamo di affiliate marketing, che cos'è e come si può iniziare a farlo. Io come al solito sono Michele Emiglio e benvenuto benvenuti nel mio canale. Se non sei iscritto o iscritta iscriviti ma soprattutto attiva la campanella per non perderti i contenuti ma lasciami soprattutto i commenti. I commenti mi servono sia per indicizzare meglio il video ma soprattutto per sapere se questi argomenti ti interessano e se posso creare dei contenuti che ti piacciono di più. Oggi parliamo appunto di affiliate marketing. Ieri infatti è uscita la terza puntata di Digital Business Talks, chiacchiere di imprenditoria digitale che è il podcast che ho insieme a Giuseppe Guastamacchia. Ti lascio qui in giro le schede, nelle schede in descrizione, la puntata uscita ieri e le playlist varie in cui puoi vederti tutte le puntate. Trovi il podcast chiaramente anche nelle piattaforme di podcasting ma noi lo pubblichiamo anche su YouTube perché siamo degli YouTuber, dei videomaker, dei producer, insomma quello che facciamo. In quella puntata abbiamo iniziato ad analizzare i vari modelli di business online e come racconto io attualmente mi occupo di SMMA e affiliate marketing. L'SMMA ne parleremo in altri video, oggi parliamo proprio di affiliate marketing. Quindi innanzitutto che cos'è l'affiliate marketing? Fondamentalmente è un modello di business che consiste nel vendere prodotti o servizi di aziende terze online e venderle tramite strategie di digital marketing il più possibile automatizzate quindi non con il contatto diretto col cliente ma creare dei funnel, quindi un processo in cui l'utente entra da una pubblicità tendenzialmente viene educato, capisce che qual è il suo problema, viene identificato il suo problema e quale prodotto può risolverlo proprio quello che vado a vendere. E io guadagno delle commissioni, quindi non spedisco nessun prodotto, non produco nessun prodotto o servizio ma semplicemente lo vendo e guadagno delle commissioni per ogni vendita. Questo poi diventa un gioco puramente matematico perché il mio lavoro è fondamentalmente fare advertising e creare il processo di educazione, il processo di convincimento della persona che andrà ad acquistare. Se riesco a fare questo bene e la mia spesa in pubblicità è più bassa del mio incassato allora sono a ROI, si dice, quindi sono in profitto, ho un ritorno sull'investimento positivo, un ritorno sulla spesa pubblicitaria positivo, quindi maggiore di 1, maggiore del 100% e sto guadagnando. Se invece non riesco a farlo sono in perdita e semplicemente dovrò capire come ridurre i costi pubblicitari o come migliorare le conversioni, migliorare la conversione della mia pagina web, del mio funnel, del mio processo di vendita. Conversione significa acquisto, quindi semplicemente che converto un utente interessato che ha cliccato sulla pubblicità in un cliente, da utente a cliente. Conversione significa proprio questo. E questa, diciamo, è la teoria. A livello pratico ci sono poi tante dinamiche che bisogna considerare, non è un lavoro facile, però è molto interessante. Due giorni fa ho pubblicato un video insieme a Francesco Testa in cui analizziamo i 5 rischi, i 5 problemi del modello di business dell'affiliate marketing che abbiamo individuato. Perciò ti lascio a quel video per capire meglio questi problemi qua. Noi ci occupiamo di questo, quindi siamo convinti che sia un ottimo modello di business, perché è scalabile, cioè puoi guadagnare all'infinito. Non hai un tetto, semplicemente dipende da quanti budget pubblicitari vai a mettere e di quanto lavori fondamentalmente, di quanto riesci a stare a ROI. Quindi puoi guadagnare potenzialmente infinito. Inoltre è un business piuttosto veloce perché nel momento in cui imbrocchi, capisci come sta andando, come funziona, trovi il prodotto giusto, inizia a vendere, puoi scalarlo e passare da poche centinaia o qualche migliaia di euro al mese di incassato a anche decine di migliaia nel giro di anche meno di un anno. Quindi passare da poco a tantissimo in poco tempo perché proprio come modello, essendo molto snello, è molto veloce. Allo stesso tempo però proprio come è facile salire è facile scendere. Infatti è un modello ad alto rischio. Perché? Perché tipicamente in qualsiasi business, nel mondo del business, se è facile guadagnare è anche facile perdere. Ovviamente non parliamo di facilità in termini di è una cagata farlo, in termini diciamo di proprio scalabilità, nel senso che i processi non sono complessi. Una volta che hai imparato come funziona la macchina è solo questione di testare e imbroccare poi la campagna giusta e spingere al massimo. Però così come puoi spingere al massimo e guadagnare tanto, testando tanto vai anche a perdere tanto. Quindi bisogna riuscire a giocarsela bene. È una questione di riduzione del rischio, tecniche di riduzione del rischio e man mano andare a guadagnare sempre di più. Quindi è un business veloce ma ad alto rischio, molto scalabile ma richiede budget per esempio. Perché per scalare devi avere i budget da mettere per fare più campagne pubblicitarie. Scalare vuol dire semplicemente prendere quello che stai facendo, cioè vendere e duplicarlo, aumentare le vendite fondamentalmente mantenendo la proporzione del guadagno. Quindi se vai a spendere di più e per dire tu stai spendendo 1000 euro al mese, guadagni un 15% in positivo, che magari può sembrare poco però comunque sono 150 euro. Se inizi a spendere 10.000, 100.000 andrai a guadagnare 1500 o 15.000 euro al mese. Quindi chiaramente sono soldi però che devi riuscire a mettere o a far girare perché poi chiaramente i siti su cui vai a vendere ti pagano alcuni mensilmente o alcuni addirittura di più. Però ce ne sono alcuni che ti pagano ogni 15 giorni, ogni settimana e cose così. Ho citato siti perché tipicamente l'approccio che si ha nell'affiliate marketing, soprattutto all'inizio, è quello di utilizzare delle piattaforme come possono essere World Field, Affiliation Park, parlando di mercato italiano, che propongono una serie di prodotti agli affiliati, loro si occupano della logistica, si occupano del sentire il cliente, quindi assistenza cliente e tutto quanto, e si occupano dei contratti con i produttori, semplicemente ti mettono lì il prodotto, tu hai dei link per vendere, puoi fare la tua pagina web o utilizzare la loro e fai pubblicità per loro, guadagni la commissione che ti viene indicata e guadagni e loro guadagnano se occupano di tutto il resto. Quindi è un modello molto snello e anche puoi partire abbastanza facile, devi avere però dei budget per coprire le spese e i rischi, avere un cuscinetto di rischio. Altre modalità che poi si possono intraprendere per fare affiliate marketing sono quelle degli accordi direttamente con i brand, quindi andare a fare affiliate per delle aziende nello specifico, quindi fondamentalmente andare a vendere il prodotto e qui diciamo si può andare a sfociare nell'SMMA oppure restare in affiliate in base un po' alle varie dinamiche che si vanno ad attuare. Inoltre io ho parlato di pubblicità online perché io ho il modo in cui opero, tramite Facebook advertising, Google advertising e native advertising, quindi sono tre tipi di pubblicità, però ci possono essere altre modalità, per esempio tramite traffico organico, tramite un blog, tramite il canale YouTube, tramite un po' quello che vuoi, in cui le persone diciamo ti trovano e tu metti link a defilazione eccetera. Però è un modello lento perché comunque per mandare in organico bene un canale YouTube, un blog ti ci vogliono sei mesi, un anno, ci vuole tempo, bisogna creare tanto contenuto e quindi i risultati ti vedi più in là. Facebook advertising, ma anche Google e native, nel momento in cui sai come funziona diciamo che tu potenzialmente parti oggi e inizi a guadagnare, parti oggi e inizi a guadagnare domani, nel senso che comunque è molto molto più veloce perché tu vai a pagare il traffico e vai a forzare diciamo la presenza delle persone all'interno della tua piattaforma, del tuo sito e tutto quanto. Ora non voglio fare un video lunghissimo perché nel podcast uscito ieri, appunto te lo lascio in giro in descrizione e nella scheda, l'ho sviscerato molto di più, cioè è una puntata di un'ora in cui abbiamo parlato di 3-4 modelli di business, ma li abbiamo proprio sviscerati, poi il fatto che noi insieme a Giuseppe con cui ci confrontavamo è venuta fuori una bella checchierata devo dire. Quindi questo non vuole essere una spada fraccata noiosa come, cioè noiosa, un video lungo, vuole essere una cosa breve, soprattutto introduttiva. E come imparare, come iniziare a fare affiliate marketing? Beh innanzitutto ti dico formati online, quindi tramite Google, tramite YouTube, cerca contenuti perché sono i tuoi migliori amici e puoi veramente imparare un sacco di cose. Anche sul mio canale YouTube trovi una playlist sulle Facebook Ads e altre playlist molto utili sia lato mindset, quindi per imparare a lavorare bene e essere produttivi e poi lato proprio digital marketing, quindi le trovi in giro un po', adesso vedo cosa linkarti, te le linko qua in giro. E soprattutto inizia a formarti anche a pagamento perché a volte è molto utile andare a prendere corsi, non farlo subito perché devi prima capire qual è il panorama della realtà della formazione prima di comprare cose che poi magari realmente non ti servono. Io personalmente l'ho fatto, purtroppo a volte si vanno a fare degli acquisti sbagliati e a spendere migliaia di euro in corsi, che non era il caso comprare, però fa parte del gioco. Inoltre io e altri quattro ragazzi abbiamo aperto Digital Builders, che cos'è? È una community, è una community con altre persone che vogliono imparare il digital marketing, stanno imparando il digital marketing o fanno il digital marketing e guadagnano online attraverso business sul digital marketing come l'affiliate marketing. Parlo di digital marketing perché va a prendere dentro l'affiliate, l'SMMA e quant'altro, insomma, quindi ci possono essere varie dinamiche. E io e queste altre quattro persone abbiamo creato un percorso all'interno della community, un percorso, diciamo che è un corso però io preferisco chiamarlo percorso perché ti porta da un punto A a un punto B, cioè parte della situazione in cui non sai fare digital marketing e ti porta a riuscire a imparare a lavorare online nelle varie forme che poi puoi andare a scegliere. E devo dire, ho visto proprio davanti ai miei occhi persone farlo in 6-9 mesi da zero arrivare a fare dell'online il proprio guadagno principale. Quindi è veramente valido, cioè lo so che l'ho creato io insieme a loro ma è così, è valido. In descrizione trovi un link per una pagina web. Ho fatto anche un video in cui spiego un po' il tutto. Nella pagina web appunto spiego nello specifico come operiamo all'interno di questa community e come si può entrare all'interno della community. Dentro la community inoltre diamo supporto, quindi aiutiamo le persone, rispondiamo alle domande, cerchiamo di aiutarli e facciamo anche delle live, delle zoom formative per sia presentare il progetto sia appunto aiutare le persone con le loro problematiche nell'advertising, nella strutturazione del funnel o in generale nel business online. Quindi ricapitolando, la Fiat è o non è un buon business? Assolutamente sì perché quello che faccio quotidianamente è un ottimo business, si possono fare tanti soldi, si può scalare molto. Non lo consiglio come primissimo business per iniziare perché appunto devi avere dei budget. Se tu magari arrivi da una realtà lavorativa, sei un dipendente, lavori da un po' di anni e via dei soldi, allora ci sta a partire con la Fiat perché appunto può essere un ottimo modello per scalare bene. Se però ad esempio sei uno studente e hai appena iniziato a lavorare eccetera, non te lo consiglio perché appunto devi avere dei budget. Quindi magari un altro modello di business da cui iniziare può essere l'SMMA che personalmente è ciò che mi ha fatto fare il primo scalino importante con i guadagni online. Ne parlerò comunque più avanti sia nel podcast sia in altri video che farò. Quindi niente, semplicemente noi adesso ci salutiamo, lasciami soprattutto un commento per capire se questo video ti è stato utile e cosa ti piacerebbe che vada a trattare, cosa ti piacerebbe che vada a spiegare e inoltre ci vediamo dentro la community, ti aspetto dentro e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!